ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutto tech siamo vicini ad un momento un po particolare dell'anno dove praticamente alcune coppie iniziano a sentire un po di più il palpiteo del cuore verso l'altra persona quindi anche il nostro assistente vocale ha deciso di entrare in questo fantastico mondo quindi la tecnologia apre anche all'amore tra le coppie e come dal 6 febbraio fino al 19 febbraio vi basterà dire chiedere al vostro assistente vocale scarta un bacio grazie ad una collaborazione con la famosa azienda che produce cioccolatini la perugina anche il nostro assistente vocale vi può ispirare per delle frasi memorabili per il vostro bigliettino d'amore per la vostra lei oppure voi donne per il vostro lui quindi vi basterà semplicemente dire scarta un bacio ciao ecco a te il primo bacio fornito da baci perugina amare e sapere dire chiamo senza parlare victor upo vuoi scartarne un altro quindi una volta detta questa frase quotidianamente fino al 19 febbraio come vi dicevo prima la nostra assistente vocale vi ispirerà con delle frasi memorabili quindi se per caso volete creare l'atmosfera volete regalare simbolicamente un bacio perugina la vostra fidanzato al vostro fidanzato comunque il vostro lui a vostra lei potete usufruire anche di questo servizio sono tante le frasi che vi potranno ispirare in tutto questo o creare la magica atmosfera dell'amore video breve per potervi dire che c'è anche questa nuova funzione per gli innamorati e io direi che per questo video è tutto un felice san valentino e al prossimo video ciao